tutti i libri che narrano la storia del mondo libri come altri dice di storiografia sono conservati nella camera centrale tale sala un angusto ambiente di pianta circolare dal diametro di 4 cubiti la circonferenza che ne deriva è dunque pari a 13 cubiti circa la reale altitudine delle pareti anzi dell'unica parete in se stessa conchiusa e completamente rivestita di scaffali è invece indeterminabile l'osservatore che in piedi nel punto centrale del pavimento di pietra granitica levigata alzi lo sguardo allo zenith vedrà congiungersi gli aerei scaffali in un punto lontanissimo come allogiva di una cupola gotica dirò dunque ora brevemente dei volumi ogni tomo è rilegato in pelle cremisi in maniera identica a tutti gli altri e dunque da ciascun altro riconoscibile soltanto dalla dicitura stampigliata sul dorso che reca titolo e autore in caratteri dorati non altrimenti differiscono gli scaffali organizzati sulla circonferenza della pianta in 12 settori di un cubito ciascuno corrispondenti alle 12 età del mondo le vigate e sottilissime colonne di legno nero separano tali archi di circonferenza parallelamente alle colonne e perpendicolarmente agli scaffali si innalza per ciascuno dei 12 settori del medesimo materiale una scala a pioli ciò che pare mirabile è la totale mancanza in tali linee gli artefatti di formidabile levatura di giunzioni di sorta le 12 scale servono ad altrettanti bibliotecari per hissarsi fino ad altitudini imponderabili per le loro quotidiane operazioni di pulizia archivio e manutenzione si apre a mezzogiorno di fronte cioè all'ipotetico visitatore al quale già abbiamo fatto riferimento una piccola porta di misura appena sufficiente per essere varcata da un uomo di media corporatura essa immette nel primo cerchio stanza circolare a sua volta che recinge la camera centrale come un anello conformi a quelli del primo e più interno ambiente sono dunque le pareti e per fattura e collocazione gli scaffali addossati alla sola parete esterna quella concava di tale arcuato corridoio molto più rari e radi sono invece quivi i volumi conservati distanti gli uni dagli altri e per lo più isolati talvolta adagiati sulla quarta di copertina e solo sporadicamente giustapposti a piccoli gruppi sono essi le opere di storia della storiografia le due pareti la conversa e la concava che delimitano il primo cerchio distano in ogni loro punto rispetto al punto più vicino della parete opposta esattamente cinque cubiti questo io dico in corrispondenza del pavimento che è quivi di pietra grezza da che la parete più esterna tende come una teoria infinita di archi rampanti ad aggettare verso la gemella interna fino a congiungervisi o forse semplicemente a dare l'illusione ottica di un congiungimento a un'altitudine a sua volta ragguardevole e ignota le scale a pioli scorrono in questo secondo e meno angusto ambiente su guide orizzontali da che pur per un numero di gradi ovviamente identico le dodici sezioni corrispondono qui a una ben maggiore estensione lineare al secondo cerchio si accede per una porta simile alla prima se non per dimensioni è questa infatti leggermente meno angusta e collocazione tale secondo uscio si apre alle ore 6 fatto che obbliga il dotto che nella biblioteca si avventuri a percorrere una scelta delle due semicirconferenze che costituiscono il primo cerchio per passare dalla camera centrale al secondo cerchio qui si conservano i volumi di storia di storia della storiografia che corra una qualche coerente attinenza un'ineffabile pur indubitabile proporzione di natura matematica o mistica tra l'altezza degli scaffali il numero progressivamente più esiguo di volumi e la crescente distanza che separa ogni parete convessa dalla speculare ed esteriore sorella concava è in questo punto evidente anche al visitatore dall'intelletto meno acuto dalla visione della cimata degli scaffali che per la prima volta si manifesta in questo secondo cerchio e gli deduce per analogia poggiando i piedi sull'impiantito di terra battuta la proporzione finita per quanto incommensurabile anche delle pareti dei due primi ambienti dalla visione di uno spicchio di cielo sopra la propria testa e gli deriva che la biblioteca è priva di soffitti configurandosi dunque piuttosto come labirinto che non come edificio in senso stretto i dodici bibliotecari che a questo terzo ambiente presiedono possono contare come i colleghi delle due camere interiori su scale a pioli intagliate nel legno per quanto quivi tale materiale sia di minor pregio e dotata in aggiunta di un qualche solerte congegno la cui natura meccanica o idraulica via ignota atto a farle scorrere in orizzontale lungo il proprio dodicesimo di circonferenza a mezzogiorno un cancello di ferro nero immette nel terzo cerchio lo studioso che superi codesta inferriata intenzionato a consultare i volumi di storia di storia di storia della storiografia troverà ad attenderlo giacché non più praticabile a piedi e la distanza che separa i due tramezzi un'asina addestrata a compiere docilmente tale servizio di traghettamento il muro esterno misura in altezza un cubito e mezzo gli scaffali che vi sono addossati sono di pari proporzioni i dodici inservienti presidiano il proprio dodicesimo di circonferenza a cavalcioni di un identico equide al cerchio successivo il quarto si accede attraverso una mera e ampia interruzione della corona di scaffali tale apertura si spalanca secondo un criterio di simmetria puntuale rispetto all'anello immediatamente concentrico il nuovo spazio è il primo presso il quale non siano impiegati fattorini chi desideri di consultare una delle eccezionali opere di storia di storia di storia della storiografia giunge al muro esterno dopo una giornata a cavallo trovando tale muricciolo costituito in mattoni grezzi di cotto per un'altezza di un palmo appena questo cerchio non necessita evidentemente di sbocchi di sorta sia notizia certa di eruditi giunti al quinto cerchio le rarissime cavillose opere di storia di storia di storia di storia di storia della storiografia vi sono semplicemente adagiate al suolo sulla linea di una circonferenza labilmente tracciata nella polvere con qualche oggetto puntuto il sesto cerchio è pura speculazione mera e ideale circonferenza dalle proporzioni in mani sulla quale poggiano forse alcuni libri ciascuno distante dagli altri migliaia di leghe per raggiungere un ipotetico e io credo assurdo settimo cerchio da questo estremo confine sarebbe necessario percorrere una distanza ben superiore a quella che mai il più longevo degli uomini potrebbe coprire trascorrendo a cavallo la propria intera esistenza giurano tuttavia i teoreti di molte scuole che tale cerchio esista ed attenda di essere raggiunto ed impito come tutti di libri grazie a tutti 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 grazie a tutti